Entro due anni il Gran Caffè dell'Aquila, storico locale cittadino, potrà tornare nel suo luogo naturale, vale a dire il centro storico dell'Aquila, nell'incrocio di Via Patini. A fine settembre, infatti, potranno iniziare i lavori nel Palazzo Storico in Piazza Duomo e tempo 30 mesi dovrebbe essere riconsegnato. Una bella notizia per l'imprenditore aquilano Michele Morelli, trasferitosi da poco con una succursale del Gran Caffè a Filadelfia. Diciamo che inizia un conto alla rovescia, quindi si comincia a vedere la luce, sembra che a settembre qualcosa si muova e si inizia a canterizzare, quindi da lì, penso, dopo 24-30 mesi il Gran Caffè ricomincerà a lavorare, quindi più che altro diremo un altro segnale importante per il centro storico dell'Aquila. Purtroppo i problemi però per i commercianti che hanno deciso di ricollocarsi in Viale Corrado IV sono notevoli a causa della viabilità. Il nuovo assetto della via, ci dice Morelli, ci ha messo di fatto in crisi, facendo scendere bruscamente il volume di affari. Quali sono le difficoltà a cui andate incontro qui? Allora, premetto che continuo a ribadire che questa viabilità è per me assolutamente catastrofica, nel senso che io stavo realizzando un progetto 2008, quindi prima del terremoto, quindi non si sono preoccupati delle attività che sono sorte dopo il terremoto. Prima Viale Corrado IV, prima il terremoto era una via d'ingresso della città, una via praticamente che c'era poco e nulla, adesso è diventata una via commerciale. È difficile tutto qui all'Aquila ormai, perché ormai qua ci scontriamo delle situazioni assurde, oltre che per la viabilità di Viale Corrado IV, vedi delle cose praticamente che forse neanche Spielberg nei suoi film riuscirebbe a raccontare. Voi avete registrato un calo negli affari a causa di questa nuova viabilità? Il calo è netto, sia a causa della viabilità, a causa della crisi, a causa chiaramente di nuove aperture nel centro storico, giustamente perché la gente continua ad avere e rinizia ad avere voglia di centro storico, ma purtroppo ci sono degli imprenditori che continuano ad aprire su questa strada, ben venga, perché mi auguro la faccia resistere, riesca a far mantenere almeno un piccolo volume di affari.